ciao amici di napolita benvenuti in questa analisi tattica perché mi sono divertito mi sono divertito proprio quante cose quante cose ci sono da dire in questa partita due partite primo tempo e secondo tempo primo tempo c'è un errore tattico evidente che il napoli poi è riuscito a risolvere il secondo tempo tra il primo e il secondo tempo ha cercato un qualcosa di diverso ma cerco di spiegarvelo ma prima di iniziare voglio ringraziare come sempre tutti i nuovi abbonati e voglio invitare chi sta guardando questo video ad iscriversi al canale ad attivare la campanella delle notifiche a lasciare un like e un commento a questo video che per noi è fondamentale poi sapete no quando ci sono le analisi tattiche rispondo a tutti i commenti cerco di essere sempre presente allora ragazzi questa partita è importante prima vi farò vedere delle slide poi andiamo subito nei video perché ci sono delle cose interessantissime napoli a due facce primo tempo che vede il napoli andare in rete dopo 27 secondi 28 secondi quello è più o meno il tempo comunque pochissimi secondi con un'azione codificata un'azione che il napoli prova spesso un'azione che parte da di lorenzo passa per lukaku e poi va a scott mc tomine ma questo la vedremo alla fine andiamo a vedere più avanti questo video perché ci sono tante altre cose interessanti prima di tutto il motivo per cui il como è stato così dominante nell'ultima parte del primo tempo come che una squadra raga che c'ha tanti giocatori forti e poi c'è un allenatore di altissimo livello che sicuramente farà una carriera straordinaria che fa gli elogi al nostro lobotka a fine partita quasi facendoci emozionare no perché dice io vorrei 11 lobot nella mia squadra comunque il como è forte però c'è un errore tattico che il napoli ha fatto a mio parere nel primo tempo e ha dato la possibilità al como di poter sviluppare quello che è il suo punto forte no il portare giocatori tra le linee e soprattutto andare a portare molti calciatori in zona tre quarti però dopo si è aggiustata questa cosa il napoli nel secondo tempo è riuscito a mettere una pezza e ha poi vinto la partita ma andiamo subito sulle slide perché voglio aprire come possiamo fare ad ogni partita perché ancora una volta scott mc tomine è il giocatore che fa più chilometri 12 chilometri punto 466 dietro di lui c'è stanis la lobotka poi giovanni di lorenzo zamba chissà e amir racamani che amir racamani da centrale a fare così tanti chilometri non è benissimo comunque scotto continua a vincere la classifica del giocatore che fa più chilometri ma andiamo a vedere questa prima slide che ci fa capire la differenza tra il primo e secondo tempo queste sono le posizioni medie e il baricentro del napoli nel primo tempo vediamo che le posizioni medie sono un po quelle che abbiamo visto anche contro il munza l'unica differenza che questa volta di lorenzo sta al suo posto e politano sta al suo posto perché nella partita precedente vedevamo che c'era politano davanti a di lorenzo le altre posizioni sono quasi standard anghi sta di fianco a lobotka e mc tominei a ridosso di criccia quara schede e questa volta un po più di libertà e lukaku che tendenzialmente sta sempre sul lato destro ma la cosa importante andare a vedere il baricentro perché il napoli nel primo tempo era lungo 24.97 metri e aveva un baricentro di 47,66 metri guardate nel secondo tempo cosa succede allora ovviamente è un po confusionario il lato della posizione media perché ci sono anche i subentranti però la cosa che dobbiamo sottolineare è quella del baricentro perché come vedete la lunghezza è sempre 24.07 più o meno siamo lì perché è abbastanza compatto il napoli però il baricentro è salito a 51.4 quindi alzare il baricentro la squadra compatta perché come vedete le posizioni sono quasi le stesse anzi quando entrano i subentrati si mettono in posizione un po più difensiva ma in quel momento il napoli era ovviamente sul 3 a 1 tutti quei cambi arrivano dopo il terzo gol però è squadra sempre compatta e come vedete il baricentro è sempre alto diciamo e questa è stata la prima cosa che è cambiata perché da 47 è passata a 51 metri quindi quei tre metri non sono poco e poi la compattezza invece è sempre la stessa quindi come potete immaginare questo blocco compatto si è spostato più avanti portando due benefici il primo di non far fare al cuomo quello che sa fare con piena libertà ma andando a fare una fase anche di pressing organizzato è fatto proprio bene ma iniziamo subito con i video perché andiamo a vedere subito il 5 3 2 del napoli chiaro ed evidente lo possiamo vedere qui il como porta palla e vediamo la linea di 5 la linea di 3 e i due in avanti qui c'è la prima criticità perché che cosa faceva il como spesso portava due giocatori contro un giocatore del napoli vedete qui la linea di 5 si completa con olivera che in quel momento è solo in mezzo a due giocatori che gli possono dar fastidio quindi nell'eventualità che la palla arriva lì olivera deve tenere d'occhio due calciatori perché è stata fatta questa cosa io sotto al cono di luce vi ho messo sia olivera sia kvisha quara schella che in questo caso poteva andare vedete la freccia rossa a coprire quello spazio quel giocatore del como che poi ricordatevelo questo video perché lo vediamo più avanti però in un'altra situazione questa scelta a mio parere è proprio per tenere kvara schella un po più avanti quindi non chiedergli tanto sacrificio in fase di non possesso e quindi tenere il georgiano un po più avanti dobbiamo dire che lui qui è anche in questo momento in smarcamento preventivo cioè guarda la fase di non possesso guarda la fase difensiva ma è sempre con una postura pronto ad andare ad attaccare ovviamente l'eventuale palla che il napoli recupera e la può dare in avanti se andiamo avanti col video andiamo a vedere ancora questa situazione perché anche quando il napoli va a pressare c'è ancora qui vedete olivera su due giocatori quindi deve per forza fare una scelta e se il pallone arriva in quella zona ovviamente due contro uno vince chi è in due e perde chi è in uno vuoi o non vuoi è sempre così ma proseguiamo perché anche qui andiamo a vedere il 532 la stessa cosa qui però vi vado a sottolineare l'uomo tra le linee quello che faceva il como benissimo e anche qua possiamo sottolineare che i tre centrocampisti mantenendo un atteggiamento non proprio perfetto in fase di scivolamento perché quando tu fai il 5 3 o il 5 4 poi vediamo durante il video devi essere anche molto compatto in questo caso uno dei centrocampisti deve seguire il movimento tra le linee del giocatore del como è invece qui troppo libero il como sta andando a sviluppare sempre sul lato destro e quindi in questa occasione poi il napoli si compatta bene perché poi alla fine molto compatto qui salva lo botta leggendo la linea di passaggio però anche questo è un problema portato dall'assorbimento il 5 3 2 perché se vuoi portare quell'uomo in più in avanti per dare la possibilità per esempio a caraschella di non fare troppa fase difensiva devi essere stretto e compatto tra le linee ma soprattutto con le spaziature compatti andiamo poi a vedere qui un'altra azione qui continuiamo a vedere ancora il 5 3 2 perché qua vediamo che ancora c'è uno contro due ancora Olivera che non riesce andare a prendere i due giocatori deve fare una scelta o andare in avanti o allargarsi e far scivolare di reparto tutta la difesa perché questa è un'azione che a noi ci interessa perché guardate qui nico pazzo con un movimento passa dietro al compagno e si va proprio in quella zona dove c'è strefezza che segna l'uno a uno questa azione ovviamente è un gol balistico c'è di bravura di strefezza perché lì poi buongiorno arriva proprio con un secondino di ritardo però come vedete il como sviluppava di qua per andare poi ad uscire dall'altro lato perché lì c'era sempre il 2 contro 1 e questo 2 contro 1 ahimè lo ha creato il napoli perché assorbendo 5 3 2 aveva un giocatore meno su quel lato e il como era una squadra che sviluppava molto in ampiezza faceva tanto palleggio andava ad occupare le zone laterali e lì c'era sempre questa soluzione a favore dei nostri avversari si va negli spogliatoi si prende un tè caldo anche se non fa freddissimo e ponte ci mette la pezza perché guardate cosa succede nel secondo tempo assorbimento diverso 5 4 1 vedete lukaku come unico riferimento che fa pressione quindi prima pressione individuale vedete qua raschelia come sta nella linea dei centrocampisti ma soprattutto nella linea di 5 difensiva si è fatto anche un piccolo cambiamento individuale perché guardate come l'uomo tra le linee questa volta è tenuto d'occhio dal difensore in questo caso è il terzino di lorenzo che va subito sul riferimento quindi 5 4 1 abbiamo risolto il problema dei tre e quindi dell'uomo libero sulla sinistra e poi con di lorenzo abbiamo chiesto proprio di andare in pressione quindi in marcatura sull'uomo che era tra le linee quindi tutto a posto primo tempo così secondo tempo si è messo una pezza ma vi porto come al solito un'altra prova a cui vi faccio vedere addirittura un 5 4 1 con il righello perché guardate qui come è precisa la linea dei difensori e la linea dei centrocampisti sempre lukaku avanti in prima pressione è sempre qua quiccia qua raschelia vi metto una freccia che nel secondo tempo si è sacrificato quindi vedete come la postura è quella di andare a chiudere sul suo lato quindi andare a scivolare sull'esterno per non far sì che si possa creare più quel 2 contro 1 come vedete dietro la linea difensiva è perfetta e precisa questa volta c'è l'uomo tra le linee che può essere seguito da un difensore perché poi con le coppie tutti quanti hanno il proprio riferimento quindi possiamo assolutamente dire che nel secondo tempo a livello tattico si è messa una pezza che serviva era importante e soprattutto la differenza si è vista ora andiamo a parlare del pressing perché il pressing il napoli ha fatto bene e in questo video vi voglio far vedere proprio cosa vuol dire fare pressing nel modo corretto soprattutto l'indirizzare il pressing questa qui questo è bello questo video allora vedete qui come va indietro il como partono tutti corrono verso il pallone ma attenzione al movimento di lukaku che va a indirizzare il pressing perché vedete lukaku si mette praticamente avanti al difensore alla sinistra del portiere per far sì che il portiere vada dall'altro lato infatti così fa il portiere vada all'altro lato in quel momento scatta il pressing quello lì che arriva da lontano vi ho fatto vedere la freccia e anche sa benissimo che se si mette là recupera palla quindi vedete questo come pressing indirizzato appena il como andava dietro in quel momento tutti correvano verso il pallone poi pressing indirizzato per far sì che il como usciva sul lato destro e lì iniziava un'altra fase di pressing perché è importante questa procedura prima di tutto perché ormai il calcio è fatto di pressing e pressioni l'abbiamo sempre detto ma soprattutto perché arriva il rigore segnato da lukaku perché guardate qui stessa situazione pressing vi metto sotto al cono di luce sia mc tomine che in questo caso fa il vigile perché sta dicendo ai suoi compagni di andare a pressare perché è quello il segnale quando il como andava dietro oppure quando il como iniziava la costruzione dal basso si doveva andare immediatamente a pressare scott lo dice sotto all'altro cono di luce c'è olivera guardate come vanno anghissà lukaku anche qui va a schermare olivera si prende il pallone lukaku gli dà la palla poi arriva con un rimpallo e qui c'è il calcio di rigore quindi vi ho fatto vedere che il pressing serve è profittevole e soprattutto è ormai una cosa fondamentale perché soprattutto quando trovi una squadra che ha coraggio inizia a costruire utilizza fasi manovrate è buono anzi è corretto farlo farlo bene ovviamente il napoli lo sta facendo molto bene però in questo caso deve avere un baricentro più alto devi essere compatto ma devi sempre portare tanti uomini in zona palla e il napoli questa cosa la fa bene vi ho detto nel primo mini video è proprio chiaro nel secondo mini video arriva il rigore poi vi faccio vedere un attimo velocemente il gol dell'1 a 0 perché poi ecco qua vedete lukaku come va dentro per mc tomine e poi lo andiamo un attimo a studiare con la camera tattica perché con la camera tattica vi faccio vedere questa ovviamente un'azione piano gara la partita in quel momento è iniziata e quindi vedete come raccomani va in ampiezza su di lorenzo ma andiamo a vedere i movimenti perché il classico i due esterni del 4 2 3 1 il napoli in questo momento sta giocando 4 2 3 1 vedete gli esterni nel campo c'è sia politano che qualaschelia sotto i coni di luce nel campo palla che arriva a di lorenzo che fa questo passaggio di prima nell'immediato la palla arriva lukaku che fa la scelta più difficile raga che rivediamo c'è la freccia bianca e la freccia russa la freccia bianca è l'appoggio più facile di fianco al suo compagno che sta arrivando verso la porta ma quello più difficile è andare a cercare scott mc tomine e quindi romero lukaku fa quello più difficile e il napoli segna dopo 30 secondi ma andiamo a vedere poi quest'altra azione perché qui vediamo il gol di neres palla di lobotka per lukaku dentro per neres e c'è il gol del 3 a 1 ma andiamola a vedere meglio laterale perché prima di tutto appena riceve lobotka la palla già scan immediato per andare a vedere in verticale il suo compagno lukaku al centro c'è mc tomine già pronto ad andare ad attaccare l'aria e alle spalle c'è neres palla di lobotka diretta di prima su lukaku vi ricordate quante volte l'abbiamo vista anche contro il cagliari lukaku che anche lui subito scan della situazione a fianco a lui c'è mc tomine anche qui passaggio abbastanza facile ma con la coda dell'occhio vede anche david neres e qui anche fa la scelta tra virgolette più complicata perché una cosa a dare il pallone nel corridoio a scott mc tomine è una cosa a fare questo passaggio dopo aver scannerizzato il campo in un secondo palla neres e neres che segna il 3 a 1 questa è una cosa straordinaria quindi primo gol super codificato perché la partita inizia dopo 30 secondi tutta potta terzo gol la stessa cosa lobotka che sta interpretando il suo nuovo ruolo anzi per essere chiaro la sua nuova interpretazione del ruolo palla immediata in verticale lukaku che ci ha fatto vedere nel primo gol di leggere benissimo l'azione è di non fare il passaggino semplice ma cercare il passaggino più complicato ma che può portare al gol lo fa nel primo e lo fa nel terzo gol poi qui vi lascio un'immagine perché si sta parlando tanto io non metto mai e non parlo mai di calci di rigore mancato io vi devo far vedere questa azione soprattutto perché qui c'è un controllo stupendo di robotica che mette nel corridoio clara scheda ma poi qui mi dovete dire come si fa a non dare questo rigore a velocità normale raga io non riesco a spiegarmelo veramente ma al di là dell'analisi tattica io questo mini video ve lo dovevo mettere perché nei commenti mi dovete dire come è possibile che non si sia dato questo rigore scrivete me lo scrivete e poi raga e non posso non chiudere i mini video con la standing ovation a stanis lavelo bot tutto lo stadio in piedi tutto il maradona in piedi ad applaudire lui che risponde girandosi no e salutando tutto lo stato ma la cosa ancora più bella l'abbiamo fatto a dire anche sui social è il bacio del papà al figlio abbraccio e bacio abbraccio e bacio che poi arriva anche arriva anche l'abbraccio di oriali non è poco perché poi tutti quelli che sono usciti sono stati abbracciati ma lo botca ha avuto il bacetto conclusione dell'analisi tattica abbiamo detto la fase di possesso abbiamo fatto vedere la fase di pressing ma soprattutto vi avevo promesso quando siete passati nella live che c'era questo problema il problema era questo l'assorbimento in 5 3 2 portava uno squilibrio portava sempre un uomo in più sul laterale quindi olivera era molto in difficoltà perché doveva seguire due giocatori il finale del primo tempo il como prende la supremazia proprio perché capisce che lì si deve andare a giocare e appunto il gol arriva da lì però chapeau ad Antonio Conte che nel secondo tempo capito il problema lo risolve 5 4 1 qua la schede un po più di sacrificio uomo tra le linee seguito ad occhio diciamo quindi difesa attiva difesa in avanti di uno dei giocatori nella difesa a 5 tutto sistemato 3 a 1 partita a casa pressing e pressioni fatte bene baricentro che sale di poco di tre metri ma tre metri nel calcio non sono poche e quindi come al solito complimenti ad Antonio Conte che nel primo tempo secondo me fa quell'azione perché sta sempre cercando di togliere caraschelia da qualche richiesta difensiva per cercare di farlo esprimere al massimo in fase offensiva però poi si rende conto che se vuoi fare un determinato calcio devi stare attento tra le linee perché parliamoci chiaro o fai calcio iper offensivo e quindi te ne freghi metti tutti avanti baricentro difesa centrocampo però poi rischi di non riuscire ad assorbire le transizioni perché siamo sempre a poche partite magari Antonio Conte prenderà la situazione in mano e andrà a capire che sono tutti sul pezzo e potremmo iniziare a vedere un calcio più propositivo e più aggressivo una squadra che si prende più rischi però fino ad allora il Napoli è quadrato è concreto rischia poco quando c'è una problematica abbiamo visto che il mister la risolve io sono assolutamente soddisfatto fatemi sapere se questo video vi è piaciuto fatemi sapere quello che volete nei commenti se volete aggiungere qualcosa io lo vengo a leggere e rispondo con un non cuore e con ovviamente una mia risposta e poi la cosa importante se qualcosa non avete capito o avete qualche dubbio scrivete che io vi rispondo ragazzi io vi saluto buona domenica perché oggi è domenica un bacio e un abbraccio da Sasa e sempre Forza Napoli ciao 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 ciao